La rassegna d'autore d'amore è organizzata dall'associazione culturale musicale Aspettando Godò, quindi un grande applauso ancora per Pino Calautti e i suoi collaboratori. Quindi qualche minuto di pausa che vi consiglio di trascorrere chi lo desidera anche al banchetto dell'associazione dove ci sono delle cose interessanti riguardanti Claudio Lolli. E in attesa del balletto di bronzo vi consiglio di scambiarvi un segno di prog. A dopo.